Ed eccoci di nuovo in diretta per il nostro appuntamento con Zoom Certificates, il focus dedicato proprio ai certificati di investimento. Io innanzitutto saluto il mio ospite in studio Riccardo Falcolini. Buongiorno Riccardo. Eccoci, ben ritrovato. Ben ritrovato a te oggi nel nostro studio grande dei nostri studi televisivi, qui solo soletto. E sì, per questa puntata speciale ti facciamo lavorare un po' di più. Va bene, molto volentieri. Insomma, è un po' diverso come ambiente, però sicuramente il calore della famiglia di Le Fonti è lo stesso. Quindi nuovo studio, però calore uguale. Calore vecchio, ma guarda ci mettiamo poco in realtà ad abituarci anche a questo nuovo set. Come al solito faremo una panoramica introduttiva di mercato per capire un po' ecco che periodo, che momento stiamo vivendo. E poi nella seconda parte della trasmissione andremo proprio ad approfondire i certificati che ci hai proposto questa settimana. E allora, io come sempre parto dai grafici e dai numeri che dobbiamo partire, che ci danno proprio l'inquadramento della situazione. E allora, che cosa succede in questa mattinata sui mercati? Beh, diciamo che gli indici del vecchio continente si stanno muovendo un po' a ribasso rispetto alle settimane precedenti e soprattutto alla performance positiva della giornata di ieri. Vediamo il nostro Fuzzi Mibia che perde in questo momento lo 0,18% in area 27.841. Stessi numeri praticamente per il DAX di Francoforte che perde lo 0,19% così come il Cacarà, Borsa di Parigi, meno 0,18%. Ecco, si inseguono un po' le varie piazze. Ecco, chi performa peggio quest'oggi è la Borsa di Londra, il Fuzzi 100 che perde quasi lo 0,4% e abbiamo detto anche che in questa mattinata è uscito un dato importante che riguarda proprio l'inflazione in Gran Bretagna che è sì diminuita rispetto alla precedente rilevazione, 10,1 contro la 10,4 del mese precedente, però meno rispetto alle previsioni degli analisti. E insomma, il nodo, il problema dell'inflazione rimane sempre presente. E ecco, queste performance, diciamo, non brillanti dei mercati le abbiamo messe anche in correlazione a un altro fattore, cioè alle trimestrali, agli utili che arrivano dal Wall Street che non sono proprio con numeri brillantissimi. Qualche delusione è arrivata ad esempio da Goldman Sachs che ha perso il 18% dei profitti da Netflix, Conti in linea sì però con una crescita degli abbonati sotto le attese e oggi occhi puntati su Morgan Stanley e su Tesla. Quindi sicuramente con le trimestrali americane che fanno un po' d'affaro ai mercati in questa settimana. Ecco, in questo contesto che abbiamo descritto, Riccardo, qual è il sentimento, l'umore degli investitori? Soprattutto c'è una rinnovata propensione al rischio o, viste le incertezze che riguardano sia l'Europa che gli Stati Uniti, prevale ancora un senso di protezione del capitale? Allora Valentina, sicuramente prevale il senso di protezione del capitale. Quello che vediamo è costantemente una ricerca di prodotti con barriere di protezione abbastanza profonde e comunque in linea generale delle strutture che permettano agli investitori di incassare un premio fisso, quindi incondizionato indipendentemente dall'andamento dei sottostanti, oppure dei premi condizionati al sottostante ma con effetto memoria. Noi lo ripetiamo ormai da diverso tempo, nel senso è cambiato un po' il mood degli investitori tra negli ultimi tre anni, 2021-2022 e quest'anno 2023. Abbiamo visto comunque un atteggiamento un po' più risk-on nel 2021, strutture un po' più aggressive e anche gli stessi sottostanti un po' più aggressivi. Citiamo tra i principali, li abbiamo detto tante volte, Beyond Meat, Peloton, Virgin Galactic che erano presentissimi all'interno dei certificati ma anche all'interno dei portafogli appunto dei clienti. Perché? Perché un sottostante così volatile permetteva di dare un boost in più al rendimento del certificato. Questa situazione è una situazione cambiata nel 2022 quando la clientela è andata alla ricerca di strutture più protettive, quindi prodotti con capitale protetto al 100% oppure prodotti con barriere profonde e ha iniziato a ragionare anche maggiormente su quella che è la qualità dei sottostanti. Perché? Perché questi sottostanti particolari, per esempio ho citato prima in precedenza alcuni esempi, cosa hanno fatto? In momenti di debolezza hanno subito dei fortissimi ribassi. Beyond Meat è stato uno dei classici esempi. E sebbene comunque il certificato abbia una struttura diciamo protettiva perché protegge il capitale fino al raggiungimento delle barriere di protezione, un fortissimo calo appunto del valore dell'azione del sottostante di conseguenza ha reso comunque la struttura non protettiva e ha portato comunque gli investitori a dover effettuare una sorta di recovery, quindi diciamo switchare su altri prodotti oppure fondamentalmente trovare dei sorti di palliativi. Ora cosa vediamo? Sicuramente un interesse, sebbene il sentiment degli investitori sia un sentiment diciamo rialzista e in effetti lo vediamo anche su quello che succede sui numeri di mercato, comunque il FTSE MIMB è ritornato sui 28.000 punti. Verissimo. Quindi notiamo come comunque il trend sia un trend diciamo potenzialmente solido di fondo dove i ribassi non costituiscono altro che occasioni di acquisto, infatti abbiamo visto che comunque in un momento di debolezza dell'indice, se ci soffermiamo sull'indice italiano, un momento di debolezza dell'indice non ha costituito altro che un'occasione di acquisto perché poi è ritornato a toccare nuovamente i 28.000 punti. Questo si traduce in cosa? Si traduce in cosa da parte degli investitori? Quindi sicuramente un'attenzione verso quei prodotti comunque che permettono di diciamo incassare un rendimento maggiore, quindi si fa fondamentalmente sempre attenzione a sottostanti di qualità, barriere profonde, alcune volte si osa anche con dei panieri un po' più aggressivi, quindi magari con dei sottostanti anche americani che permettono di avere un boost in più nel portafoglio, però in linea generale quello che il mercato sta chiedendo al momento è sicuramente maggiore protezione. Tale per cui noi come emittente ci siamo concentrati nell'ultimo anno, diciamo nei primi tre mesi di questo anno, nello strutturare prodotti di investimento che avessero del barriere di protezione quanto più profonde possibili e ovviamente al fianco di questi anche abbiamo strutturato dei prodotti di trading su una molteplicità di sottostanti in grado di soddisfare esigenze non solo trend following della clientela ma anche di copertura di portafogli. Quindi chi aveva eventualmente una situazione di sofferenza magari utilizzando un prodotto a leva poteva anche coprire queste situazioni e queste particolari necessità. Chiaro, tanti prodotti per esigenze diverse, naturalmente hai sottolineato anche la qualità dei sottostanti, li andremo a vedere, ce ne proponi alcuni particolarmente significativi nei certificates di questa settimana. Io direi proprio da questa panoramica generale che abbiamo fatto dal sentiment degli investitori andiamo adesso nella parte più operativa e vediamo proprio quali sono i certificati della settimana a partire dal primo prodotto che ci proponi Riccardo che è una cash collect worst con effetto memoria autocollable su un paniere composto e un paniere eccolo qui lo possiamo vedere attraverso la nostra scheda grafica che fa riferimento proprio agli indici. Esatto, il nome commerciale è un po' troppo lungo tanto è vero che non entra nella stessa righetta quindi interrompiamo a composto, uno dice composto da cosa? Quindi lasciamo anche un po' di suspense, di suspense, l'ho detto un po' italiano, inglese, un po' 10000, HC63J38 perché lo ripeto è un prodotto di nuovissima emissione, è partito in quotazione proprio ieri e al momento quota sotto la pari in acquista 97,56. Quali sono le caratteristiche quali è il paniere? Hai evidenziato benissimo il paniere in precedenza Valentina, spostandoti nella parte in basso si vede fondamentalmente quello che sono i sottostanti su cui è scritto quindi abbiamo indici Fuzzi 100, Fuzzi Mib, Nasdaq 100 e Nikkei. Tanto si vede come un prodotto del genere per quella che è la sua costruzione permette fondamentalmente di smussare la volatilità anziché essere scritto su singoli titoli è scritto appunto su una serie di indici. L'indice ovviamente è meno volatile di una single stock tale per cui chi fondamentalmente volesse acquistare un prodotto del genere ma o comunque acquistare un certificate ma non si sente o comunque non è in grado di sopportare la volatilità della single stock ecco che l'emittente in questo caso noi Comuni Credit abbiamo strutturato una serie di prodotti compagneri indici. Quali sono le caratteristiche? È un prodotto che ha intanto una scadenza a due anni, aprile 2025, paga un coupon condizionato alla barriera di 0,50 quindi per chi dovesse tenerlo in portafoglio per 12 mesi avrebbe un rendimento del 6% e un coupon condizionato alla barriera ma è una barriera che posta al 50% dei fixing iniziali. Cosa significa 50%? 50% significa che questo prodotto è in grado di assorbire un calo di mercato di quello appunto un drawdown del 50% sugli indici e parlare un 50% sugli indici per esempio sul Fuzzimib equivale a dire andare a raggiungere una barriera a 13.936 punti. Credo, non vorrei sbagliarmi, ma siamo anche al di sotto dei minimi toccati durante il Covid quindi questo fa capire come un prodotto del genere è comunque un prodotto più difensivo e più protettivo da tenere in portafoglio. Quali sono le caratteristiche? Allora come dicevamo visto che la clientela ricerca strutture con premi fissi oppure con memoria in questo caso abbiamo aggiunto quello che è l'effetto memoria. Come funziona l'effetto memoria? Allora abbiamo detto che il coupon è un coupon condizionato cioè significa che il coupon viene pagato alle date di osservazioni che sono date di osservazioni mensili se quindi a partire da maggio se tutti i sottostanti si trovano al di sopra di quello che è il loro valore barriera. Qualora però uno dei sottostanti dovesse trovarsi al di sotto del valore barriera il prodotto non pagherebbe cedola. Quindi abbastanza semplice. La cedola però non viene persa, viene messa in un cassettino e alla data di osservazione successiva o alle date di osservazione successiva queste cedole o tutte le cedole non pagate potranno essere recuperate appunto qualora i sottostanti peggiore oppure tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra della si chiama trigger cedola o barriera. In questo caso coincidono. Notiamo come Valentina questa struttura sia una struttura adatta o comunque idonea a chi vuole tendenzialmente un prodotto che possa permettere di incassare un rendimento diciamo quasi costante perché in questo caso un ribasso del 50% degli indici significerebbe un vero e proprio drawdown del mercato azionario. Quindi potremmo dire anche una crisi abbastanza profonda. Quindi diciamo quasi un rendimento senza preoccuparsi dell'andamento dei sottostanti perché la barriera è molto molto profonda. Un rendimento che ovviamente non è esplosivo perché parliamo di uno 0,50 mensile però ovviamente dobbiamo ricordarci che è scritto su quattro indici quindi ovviamente c'è sempre il rapporto rischio rendimento da dover tenere presente. Se tu potessi andare nella parte in basso della pagina così facciamo vedere anche Valentina un po' alla clientela. Ecco la sezione download. Nella sezione download cliccando sul primo link che si chiama brochure ti dovrebbe comparire un pdf che è sempre consultabile della clientela che praticamente ha ad oggetto tutta l'emissione. Allora noi abbiamo parlato ora, lo ricordiamo sempre, questi non sono consigli per gli acquisti ma sono fondamentalmente una spiegazione del funzionamento dei prodotti. Certo. Questa brochure la parte iniziale quindi a pagina 1 ha cosa? Ha la descrizione, riporta la descrizione, quelli che sono il meccanismo, il funzionamento del prodotto. Nella parte in basso una tabellina con le date diciamo principali le date salienti di quelli che sono appunto diciamo le date da tenere in considerazione per il prodotto e nella parte in basso ulteriormente, quindi pagina 2, tutti quelli che sono i panieri su cui noi abbiamo strutturato. Come vedrai ci sono una serie di panieri su indici e una serie di panieri su azioni. Noi abbiamo strutturato tendenzialmente un 50% su indici come barriera di protezione e un 40% su azioni. Perché questo? Perché come vedi già avendo una barriera al 50% sugli indici il rendimento è abbastanza risicato. Se avessimo ridotto ulteriormente la barriera al 40% di conseguenza anche il rendimento sarebbe diminuito. Quindi dobbiamo, il ruolo dell'emittente qual è? È sempre fare una serie di prove, una serie di tentativi per cercare di trovare il giusto rapporto, il giusto equilibrio per far sì di creare, di listare sul mercato poi un prodotto che sia interessante per la clientina. Ricordo ovviamente l'ultima cosa Valentina che questo è un prodotto che è listato sul CertX quindi sul segmento dell'EurotlX legato al modo dei certificati e quindi dove noi anche in qualità di market maker garantiamo la liquidità del prodotto quindi insomma per chi volesse acquistarlo o comunque compravenderlo durante tutte le giornate di contrattazione sa che essendoci un market maker può farlo nel momento più opportuno e in cui lo ritiene più utile. Chiarissimo, interessante molto ecco questa brochure, un prontuario, insomma una cassetta degli attrezzi la possiamo definire così per sapere esattamente come funzionano i meccanismi di funzionamento del certificato per poter poi sfruttare al meglio anche questi strumenti. Ovviamente è disponibile per tutti i prodotti, giusto? E' disponibile per tutti i prodotti. Benissimo, allora io direi Riccardo passiamo a quello successivo perché ne abbiamo tanti oggi da analizzare questo è invece un cash collector worst of auto callable su un altro paniere di azioni vediamo eccolo qua da cose composte ci riferiamo al settore bancario sempre grande protagonista di queste settimane dei mercati. Sì grande protagonista anche perché come dicevi in precedenza ci sono le trimestrali quindi legate al settore bancario e allora sicuramente questo è un settore bancario poi domestico in senso che i sottostanti sono banco BPM in realtà BMP non è proprio così domestico però ha una grande presenza i cugini francesi esatto i cugini francesi però ha una grande presenza in Italia a fine in Cobank e in Tesa San Paolo è un prodotto leggermente diverso dal precedente nel senso che questo è un prodotto come vedrai nella parte centrale paga è scritto paga una tipologia di cedola che è una maxi cedola iniziale cosa significa Valentina? significa che questo prodotto alla prima data di osservazione di giugno 2023 e lo vediamo nella seconda colonna c'è scritto proprio data di osservazione 15 giugno 2023 esatto pagherà un coupon del 15% se tutti i sottostanti si troveranno al di sopra del loro valore barriera che posta al 60% in questo caso per dirne una qual è il 60% di Intesa San Paolo? è 1,35 se vai nella parte in basso della paginetta dove ci sono tutti i sottostanti quindi la tabellina con i sottostanti potremmo vedere quelli che sono gli strike, i fixing iniziali e le barriere qual è la caratteristica del prodotto? per quale scopo nasce? nasce intanto con lo scopo di permettere al cliente di incassare un coupon un po' più consistente inizialmente quindi un coupon più grande del 15% in questo caso condizionato e successivamente però dei proventi o dei coupon incondizionati quindi questo è un mix di strutture quindi il cliente che vuole per giugno incassare una rendita che sia una rendita consistente che possa essere utilizzata anche a compensazione delle minusvalenze potrebbe fondamentalmente andare a consultare questo prodotto o gli altri della serie con l'obiettivo di incassare un rendimento cosa si può fare allora una volta acquistato il prodotto una volta acquistato il prodotto Valentina che tendenzialmente questi prodotti nascono o vengono utilizzati dalla clientela per recupero delle minusvalenze e solitamente vengono recuperate vengono un ragionamento del genere viene fatto a fine anno fiscale quindi alla fine dell'anno quindi tendenzialmente tra novembre e dicembre 2023 perché sappiamo le minusvalenze hanno una durata del anno in cui vengono generate più i quattro successivi il certificato è un certificato è un prodotto finanziario fiscalmente efficiente in quanto permette di compensare i proventi derivanti dalla negoziazione dello stesso o dalle cedole con le minusvalenze generate sugli altri prodotti finanziari questi prodotti come maxi cedola sono utili fondamentalmente per recuperare una buona parte delle minus quindi tendenzialmente la clientela almeno per quello che noi sappiamo sappiamo perché sentiamo ovviamente dato che abbiamo rapporti costanti con la clientela cosa fa? compra il certificato, incassa la maxi cedola e ha due strade o due chance in quel caso o rivendere il certificato subito e quindi posticipare di quattro anni in avanti la minusvalenza che ha in portafoglio oppure continuare a tenere in portafoglio il prodotto e aspettare l'eventuale autocall dell'emittente in questo caso l'autocall può venire a partire da dicembre 2023 e nel frattempo incassare quelli che sono i premi incondizionati che potranno essere pagati trimestralmente e che sono pari all'1% trimestrale quindi diciamo è un mix di strategie poi ovviamente è sempre il cliente che prende la decisione finale quindi su come utilizzare il tutto però ecco anche in questo caso brochure pubblicata nella parte in basso della pagina quindi chi fosse interessato a consultare gli ulteriori panieri su cui noi abbiamo strutturato accedendo al link potrà fondamentalmente verificare quelli che sono i panieri e tutte le caratteristiche del nostro prodotto benissimo ecco interessante molto sui diversi usi poi dei certificati le diverse finalità questo prodotto che abbiamo visto ha lo scopo soprattutto del recupero delle minusvalenze come ci hai spiegato e invece ecco qual è la finalità del terzo prodotto che ci presenti Riccardo questo cash collector back worst of autocallable su un paniere composto di azioni che adesso andiamo a vedere naturalmente sì allora io ne ho portati tanti poi ovviamente si fa quel che si può si cerca più o meno di andare a spiegare le caratteristiche di tutti è un prodotto un po' più semplice rispetto agli altri in quanto è un fixed cash collect che paga una cedola mensile dello 0,45% e lo vediamo lì indipendentemente dall'andamento dei sottostanti quali sono le caratteristiche Valentina? allora è un prodotto molto protettivo perché? perché ha intanto un coupon incondizionato ha una scadenza, ha una maturity a marzo 2026 come si legge nelle caratteristiche del prodotto può essere richiamato in anticipo qualora a partire da dicembre 2023 tutti i sottostanti dovessero trovarsi al di sopra di quello che è il trigger level per il richiamo anticipato però perché diciamo che è molto protettivo o abbastanza protettivo perché questo prevede un airbag l'airbag cos'è? l'airbag è quando si attiva cos'è e quando si attiva? l'airbag è un fattore già un po' il concetto di airbag comunque ecco lo conosciamo ovviamente applicato soprattutto all'automobile direi che per quanto riguarda la protezione possiamo traslare il concetto anche sui certificates assolutamente sì e si può traslare il concetto diciamo l'esempio è assolutamente calzante l'automobile quando si attiva l'airbag quando c'è una sorta di crash quindi quando c'è un incidente quando si verifica un incidente con i certificati quando giunti a scadenza uno dei sottostanti si trova al di sotto di quello che è la sua barriera di protezione quindi chiamiamolo il muro quindi qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi a di sotto di questo muro comunque dovesse andare a sbattere contro il muro che è la barriera di protezione allora in quel caso si attiva l'airbag chiarissimo molto semplice cosa fa l'airbag? l'airbag allora qualora il sottostante peggiore dovesse trovarsi a di sotto della barriera di protezione tendenzialmente in tutti i certificati si verifica un rimborso lineare tanto più è sceso il sottostante tanto più bassa ovviamente è il rimborso con l'airbag invece il rimborso non è più lineare ma viene questo valore di rimborso viene aumentato di quello che è il fattore airbag quindi c'è un calcoletto una formuletta molto semplice che è sempre descritta o all'interno del kit o all'interno della brochure quindi chi volesse fondamentalmente andare a consultare le formulette ha a disposizione varie strade il paniere è un paniere diciamo in questo caso mixato sempre pezzi da 90 sempre pezzi da 90 esatto è un paniere mixato e come vedi qui gli emittenti possono fare cosa? possono creare dei panieri che sono o correlati o decorrelati ovviamente quando un paniere è decorrelato vuol dire che le azioni non si muovono in modo unisono o simultaneo ovviamente il rendimento è maggiore in questo caso abbiamo Enel, Eni, Leonardo e Stellantis e come questo ce ne sono anche altre tanti stesse caratteristiche stessa difensività e stesse diciamo tipologie di cedole incondizionate mensili chiarissimo ecco abbiamo detto appunto questo prodotto che ha una finalità prevalentemente difensiva proprio per la presenza dell'airbag che ci hai spiegato benissimo e invece passiamo all'ultimo prodotto di questa settimana che si allontana dal paniere di azioni per andare invece a focalizzarsi su un titolo in particolare e parliamo di un cash collect su Enel esatto cash collect su Enel questo è molto semplice come prodotto è un cash collect della tipologia fixed significa che è un prodotto che paga dalle cedole in questo caso mensili incondizionati indipendentemente dall'andamento dell'azione barriera profondissima una barriera posta al 40% del fixing iniziale cioè significa una barriera che è in grado di assorbire un 60% di drawdown dell'azione Enel diciamo si vede dai grafici ovviamente non parliamo di qualcosa di non noto ma Enel è un titolo che quest'anno è stato abbastanza in debolezza è riuscito a recuperare i 6 euro qualche giorno fa ma ora è nuovamente intorno ai 5,70 euro quindi diciamo che chi può consultare questo prodotto? può consultare questo prodotto l'investitore che anziché andare direttamente su sottostante perché ha paura che rimanga in debolezza vuole comunque diciamo investire sul settore e comunque gradisce farlo con con una protezione in più esatto gradisce farlo con il titolo Enel perché è interessante perché ovviamente è un prodotto interessante diciamo interessante per chi ovviamente ha una view di questo tipo un prodotto che paga uno 0,35 mensile ha una barriera di protezione posta al 40% quindi in grado di assorbire un calo dell'azione del 60% è una barriera ovviamente europea che si attiva esclusivamente a scadenza e grazie al payoff asimmetrico quindi payoff asimmetrico è quella situazione che permette al certificato di offrire un rendimento positivo in tre scenari lateralità del sottostante rialzo e moderato ribasso grazie al payoff asimmetrico ovviamente è un grado di è un prodotto che è in grado di permette all'investitore di ottenere un payoff positivo anche in grado di anche in situazioni di negatività appunto del sottostante benissimo io tra l'altro approfitto anche dei tuoi interventi che in realtà considero quasi delle lezioni vere e proprie Riccardo io mi sto appuntando anche molti dei termini che utilizzi perché arricchisco il mio vocabolario l'effetto memoria airbag il payoff asimmetrico così ce ne sono tanti naturalmente più ne mettiamo nel nostro nuovo vocabolario dei certificates più conoscenze acquisiamo e più siamo in grado anche di capire meglio il funzionamento poi dei prodotti ovviamente partiamo dalla lingua per poi arrivare ai numeri bene abbiamo chiuso direi l'analisi dei certificati della settimana ma naturalmente l'ultima parte della trasmissione ce la conserviamo come sempre per ricordare anche gli appuntamenti legati alla formazione abbiamo detto veniamo da un mese di aprile e ancora prima un mese di marzo bello intenso parecchio intenso con tanti eventi in presenza e online cosa ci dobbiamo aspettare per l'ultima parte del mese considerando che tra l'altro mancano pochi giorni esatto è corto e poi soprattutto ci sono i ponti di mezzo ecco però so che gli appuntamenti non mancano no assolutamente no no Valentina anzi gli appuntamenti sono sempre tanti proprio ieri nelle nostre torri abbiamo ospitato un nuovo appuntamento dedicato alla formazione a alto livello con Gabriele Bellelli eravamo io Marco Medici appunto che ci occupiamo appunto della parte certificate Gabriele Bellelli e Francesco Di Bella economista Unicredit noi cerchiamo sempre di fare un appuntamento a più voci dove ci siamo sempre io e Marco ovviamente come pivot mi piace questo termine cestistico esatto il gioco passa da lì il gioco passa da lì per forza e poi c'è sempre un partner esterno ieri c'era Gabriele e un collega o della ricerca o trader che spieghi alla clientela quello che c'è dietro il certificato certo è un po' la soluzione che adottiamo anche noi a varie voci ecco che ci spieghino naturalmente prima ecco magari l'andamento anche macroeconomico per poi adentrarci invece nel prodotto specifico esatto esattamente è sempre utile secondo me capire quello che c'è dietro e soprattutto sfatare dei falsi miti nel senso molto spesso e lo dico anche un po' scherzosamente molto spesso una delle domande che ci perviene al nostro numero verde durante questi incontri è ma io lo so che mi vedete il cliente ma alcuni clienti dicono io lo so che voi mi vedete quando io compro mi fate perdere in realtà così non è perché c'è un meccanismo ovviamente degli algoritmi di calcolo che si occupano del pricing dei prodotti quindi questi appuntamenti e questi appuntamenti di formazione sono utili per la clientela secondo me e devono essere molto frequentati perché permettono intanto di sfatare dei falsi miti e poi di capire effettivamente quello che è l'utilità di un prodotto finanziario noi diciamo sempre il certificato non è il prodotto l'unico prodotto che c'è nel portafoglio ma è un prodotto sicuramente utile da consultare e da acquistare in quanto permette di sanare delle situazioni particolari di portafoglio nettare volatilità recuperare minus e quant'altro che con altri prodotti finanziari non si può fare quindi sfruttare questi appuntamenti di formazione è sicuramente un modo utile per capire come farlo ieri come dicevo ne abbiamo fatto uno in presenza fisica oggi abbiamo un webinar online con Pierpaolo Scandurra e il team di certificati derivati domani con l'ultimo appuntamento di domani chiudiamo il mese di aprile con gli eventi di formazione con Stefano Fanton in realtà non andiamo non facciamo una pausa molto lunga perché riprendiamo già i primi giorni di maggio con i prossimi appuntamenti però ricordiamo che noi come Unicredit siamo anche presenti al Salone del Risparmio che si tratterà se non erro se non ricordo male 16, 17, 18 maggio qui a Milano al Mico quindi chi fosse interessato ovviamente è un appuntamento di tre giorni due giorni dedicati agli esperti del settore quindi consulenti finanziari il terzo giorno aperto al pubblico retail fondamentalmente chi vuole può sfruttare questa occasione perché l'abbiamo detto anche per Investing Napoli insomma è sempre bello poi ritrovarsi in presenza visto che siamo reduci insomma da due anni parecchio difficili con la pandemia certamente la formazione non si è mai fermata con gli appuntamenti online però adesso che abbiamo l'opportunità di integrare le due modalità sia appunto da remoto che in presenza è giusto farlo perché insomma è bello anche poi incontrarsi di persona forse certi concetti alla fine incontrarsi di persona passano anche più velocemente assolutamente sì poi io dico sempre è bello magari dare un volto alle persone che senti costantemente quindi insomma è un'occasione in più noi ce la mettiamo tutta per andare avanti per farne sempre di più eventi di formazione per soddisfare le esigenze della clientela ovviamente anche noi raccogliamo informazioni della clientela raccogliamo bisogni necessità e di conseguenza strutturiamo prodotti ovviamente l'obiettivo è quello cercare di soddisfare le esigenze anche l'occasione per avere un feedback immediato diretto e proprio anche da quegli spunti che emergono durante appunto queste conversazioni alla fine si creano anche nuovi prodotti quindi ecco l'importanza anche di questi momenti proprio a livello di creatività bene e io Riccardo naturalmente ti ringrazio per il tuo intervento la spiegazione come sempre puntuale precisa e completa delle nostre certificates della settimana naturalmente l'appuntamento è presto qui sulle fonti perché abbiamo tantissimo tantissime cose in cui parlare naturalmente tutta l'evoluzione dello scenario economico e poi i nuovi prodotti perché la generazione continua lo abbiamo capito e quindi ce ne sono altri nuovi da analizzare insieme quindi io ringrazio il nostro Riccardo Falcolini maestro barra pivot della situazione diciamo più pivot che maestro maestro mi si addice tantissimo sono io che ringrazio Tevano Valentina è sempre un piacere essere qui con voi e ovviamente portare i nostri prodotti parlare con te scambiare idee o soprattutto raggiungere la clientela quindi insomma sicuramente appuntamento alla prossima puntata che sarà ricca di nuovi spunti bene benissimo bene allora ci rivediamo tra un paio di settimane Riccardo io ti ringrazio ancora per la tua presenza naturalmente ricordo che questa puntata di Zoom Certificates la potete ritrovare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e sul nostro canale YouTube finisce quindi l'appuntamento con Zoom Certificates continua invece la programmazione di Le Fonti TV quindi mi raccomando restate sempre con noi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti